Michela, partiamo dal gesto dopo il gol dell'1-0, insomma è anche un tributo a Luca Toni, mi pare di aver capito. Sì, sicuramente, l'avevo detto anche in radio appunto proprio giovedì, che se avessi fatto gol sabato avrei dedicato il gol a Luca Toni appunto perché oltre ad essere un grande giocatore è stato un grande uomo e visto che domani sarà la sua ultima partita al Bentegodi del calcio giocato ha voluto fare quel gesto. Un grande Verona oggi, che ha saputo soffrire ma poi ha vinto meritatamente. Sì, a noi non piace vincere facile, dobbiamo sempre soffrire, però diciamo che abbiamo meritato questa vittoria, purtroppo però non ha ancora fatto nulla perché per raggiungere il primo obiettivo mancano ancora due ostacoli a partire da sabato. Marta, un grande risultato? Sì, direi di sì, era una partita apertissima, devo dire che soprattutto nel primo tempo ci sono stati tantissimi capovolgimenti di fronte noi siamo state più bravi a concretizzare l'occasione che abbiamo avuto, forse anche un po' fortunate e quindi la partita si è messa un po' in discesa, poi però siamo state brave anche nel secondo tempo, quindi bene, direi bene così oggi. 90 minuti in campo nonostante tu fossi una delle reduci dei vari infortuni? Sì, in realtà sono ancora infortunata, diciamo che era una partita troppo importante per non poterla giocare, quindi abbiamo fatto in modo di poterla giocare. Ringrazio quindi il nostro staff medico, in particolare Marco, che con una fasciatura particolare mi ha permesso di giocare e poi tutte le compagne che comunque sapevano che non potevo fare determinate cose mi hanno aiutato molto, quindi una bella prova di squadra oggi.